Amici telesmundiani, bentornati, grazie per l'appoggio, sono ritornato di nuovo qui. Condividete il video, raffica dappertutto, perché questo qui deve fare veramente il giro del web, perché non se ne può più, non se ne può più, non se ne può più dell'idiozia del popolo italiano che continua a seguire Sanremo, che continua a seguire sti pagliacci di Amadeus, di Fiorello, perché sono dei pagliacci, sono persone senza scrupoli, persone vigliacche, come sono vigliacche tutti i politici italiani, dei pensanti, bastardi e tutti i giornalisti che continuano a scrivere scemenze e continuano a alimentare notizie negative senza alcun senso logico, non si spiegano, non si chiedono come mai c'è tanta gente che ha chiuso l'attività, c'è tanta gente che va sempre di più all'astrico, alla povertà totale, non si chiedono come mai tutta sta gente, il governo non fa nulla per questa gente, e seguono, seguono Sanremo, che Sanremo, tutti sti pagliacci che ci lavorano guadagnano un sacco di soldi, cioè non è normale Amadeus, cioè gli devono dare tutti sti soldi, non so 100.000, 300.000 euro per due serie, non so la cifra, andatela a leggere su internet, l'ho letta, neanche la voglio sapere, tantissimi soldi per dei pagliacci che poi vi fanno riascoltare sempre le stesse canzoni, cambiano quattro parole e alla fine sono tutte canzoni ripetute, che devo sentire, che devo sentire? Tutte stesse scemenze di canzoni che non valgono un cazzo, scusate la frase, non valgono un cazzo. Allora, allora, condividete questo video, caro Amadeus, ritirati, ritirati tu e tutti sti pagliacci di Sanremo, perché sei tutti dei pagliacci, poi io un anno sono stato a Sanremo a fare le interviste, mi ricordo che c'era fuori Sanremo una miriade di pagliacci, personaggi, non voglio nominarli perché già sto, tipo, personaggi veramente del nulla, del nulla, che camminavano per farsi intervistare, per farsi pubblicizzare, ragazzi, ma questi sono artisti, questi sono, i pagliacci del circo sono dei veri artisti, almeno quelli là fanno i pagliacci perché stanno recitando, stanno recitando, fanno ridere la gente, invece loro sono dei pagliacci, attuano, cioè recitano nella vita normale, cioè in maniera normale, normale, loro tutti i giorni sono, ma loro si credono io sono importante, io sono vitto, ma vippe di cose, vippe di cose, tutta sta televisione di spazzatura, Barba da D'Urso, tutti questi qui, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, signorini, signoretti, tutti questi grande fratello, grande merdello, Maria De Filippi, ma che televisione avete, che televisione avete in Italia, cioè seguite Telesmundo, seguite Telesmundo e vi fate una cultura king, una cultura king, della serietà. Allora ragazzi, chiudo il servizio, ma devo fare questa riflessione perché non capisco la gente come può ancora accettare tutto ciò, cioè io mi incavolo, mi incavolo proprio per questa situazione di Sanremo, più di tutte le altre situazioni che sapete della pandemia, della pandemia, cioè, arrivederci, condividete sto video.